direttamente da torbella monaca bish qui siamo nel 2070 ma anche stanza amichetto sta nel 2070 direttamente dalla macchinuscia magica a sto pezzo del merda di 17 27 io ti stacco la caposcia capito ti strappo la testa a ua fratelli a basta qua no niente no ce l'avevo con 17 28 direttamente dalla casetta magica massimiliano minocci detto il brasiliano se botto ca ma lei è muo a buttare io non immaginavo messo a parlare di riposino e sei cose qua no vabbè una mancata di cosa sto provo a vederla ma al limite se la manca piena di quanti modi